Scusate se sono un po' scomparsa oggi, ma è stata una bella giornatina tra cose di lavoro da consegnare e altre cose da fare. Volevo ringraziarvi, mi ha fatto troppo piacere leggervi, mi ha fatto davvero felice leggere le vostre testimonianze, le vostre esperienze, le vostre parole. Grazie anche per le condivisioni, non è un argomento così facile da trattare, soprattutto qui su un social. Avevo un po' di timore, ho sempre avuto questo timore nel raccontare questa parte della nostra vita, ma credo giustamente perché comunque sei sotto l'occhio di tante persone, sotto il giudizio di molte persone che tante affezionate a te, tante invece vogliono solo il tuo mare. E purtroppo in questi anni ne ho lette di ogni, diciamo che ho letto tanta, scusate ma tanta merda riguardo e non credo neanche che, non avevo fatto niente, non credo neanche di meritarmela ecco, ma tanta cattiveria, tante parole brutte e quindi quando ti apri così tanto su un social hai sempre paura di quella parte lì. Ma poi, ma poi, col senno di poi vieni travolta da un'ondata di affetto, di amore, di positività ed è questa la parte che più mi piace ed è per questo e sono sempre convinta che l'ho sempre fatto e finché andrà avanti Instagram sempre lo farò raccontarsi per ricevere poi l'affetto e sapere di fare del bene a qualche altra persona la parte più bella e ne vale sempre la pena. Quindi, al di là delle persone cattive, la maggioranza è la parte più buona e questo è l'importante. Avrei voluto tanto oggi essere un attimo più in forma, ma sono veramente esausta. Magari condividere un box domande, parlandone ancora, rispondendo alle vostre domande, ma oggi non ce la faccio. Che ricordi e che ridere? Quello è stato un mio vecchio lavoro di quando facevo la modella, di qualche anno fa ed era ovviamente quando facevo solo la modella, tu venivi ingaggiata per fare questo, per posare appunto, per essere il volto di campagna di questi brand e non avevi parole in merito. Se non ti piaceva il trucco, era quello. Se non ti piaceva la luce in cui... era quella, no? E quindi ci sono dei lavori che ho fatto in passato che proprio quando poi mi capita di rivederli adesso dico oh mio Dio, e il problema è che quelle foto così girano ancora, ovviamente. Io non ho tutte quelle foto, non le conservo tutte, e meno male, ma c'è per esempio questo catalogo di pigiami che ho fatto veramente tantissimi anni fa, forse 8-10 anni fa tutti, imbarazzante. Oppure un catalogo di camici da lavoro, camici, non lo so, da infermieri, così ogni tanto mi dicono ah Paola, girano ancora questi cataloghi, anche se non dovrebbero girare, ogni tanto mi arrivano i messaggi ma sei tu questo?